eccoci qua cari amici appassionati di auto storiche il vecchio marvin ha intravisto la visa color verde insomma qua mi sono subito affrettato il cancello quel signore è rimasto un po spaventato perché ha visto tutte queste persone che sono un po i miei amici del marvin tour insomma ha preso paura poi un po la volta l'ho rassicurato con la mia valigetta e il mio telefonino ecco insomma per cui ragazzi portiamo a casa questa scena interessante di questo Austin Taxi 1967 eccola qua 1967 e poi andiamo a vedere una citroen visa molto di chi anno è questa citroen visa 79 il colore molto bello particolare originale conservata e la portiamo a casa così come ricordo qua il signore ci dice che forse probabilmente a giorni magari la può vendere eccola qua citroen visa ragazzi la cattura così la cattura guardate un po è il vecchio marvin la vista ha fermato ha suonato il campanello e ecco qua eh si ha subito ha preso un po di paura eh il signore giustamente si è visto quattro eh l'altronde si è visto in quattro cinque persone ha detto ma chi sono questi non li ho mai visti però insomma se quando poi rassicuri la gente poi ti apre la le porte ecco qua ecco qua dai Austin 1967 che il signore usa nel quotidiano almeno ogni dieci giorni ecco eh guardate un po ragazzi questo è il marvin tour pazzesco a te max a te antonio a te a voi amici ecco qua un bel tappo ecco qua contadino di l'overeto è uscito tutto ghiacciato infredolito lui da destra questa bellissima Austin bel salottino quanto qua quanti chilometri ha più o meno non sai guardate qua insomma questa qua non ti dà mai problemi un po' sordo che non ricordo no poi comunque i pezzi si trovano non so quando i pezzi si trovano sì ecco guarda qua eh non volevo eh guardate qua ragazzi guardate qua si questo è un po' un piccolo salutino ecco qua cosa dici Demi eh eccola qua bella eh cilindrata questa 2002 visa 900 è 10 mila visa quant'è ah sì 650 è un bicilindrico allora è un bicilindrico ah sì bella bella bel colore niente dai bravissimo grazie sai qua Luca cosa dici anche te io l'ho vista subito ho detto fermiamoci eh il colore è veramente un peccato che la venghi no no però il colore merita vero? anni 70 anni 70 bravo ti sai invece lì quando i personaggi famosi sono saliti eh dal 67 al 78 va bene come ti chiami? Paolo? ecco qua ringraziamo Paolo che magari un giorno insomma ecco ci ha visto un po' così dei predatori degli avoltori ma siamo in buona fede noi eh di rispettare Marvin 345 guarda eh se vai su youtube tieni ecco qua grazie a te sei no va bene così grazie il camion vecchio te lo ricordi? c'era qualche parte? il camion vecchio? era sempre ah va bene dai su youtube puoi scrivere i commenti quel camion era non c'è il camion 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 un m piccolo ecco qua ragazzi questo è un po' il Marvin Tour fermarsi chiedere spettacolo questo è il Marvin senza pietà entra chiede spettacolo ciao a tutti dai che andiamo ciao Paolo grazie grazie ciao Paolo ciao ciao ciao